Finisce con una sconfitta beffarda ai danni del Matese ed in favore della capolista Pineto l'incontro allo stadio ferrante di Piedimonte Matese se si tiene conto dell'ottimo gioco espresso dalla squadra di Urbano e delle occasioni avute salve poi sciuparle malamente. Rientrava per l'occasione Vittorio Esposito che però non ha disputato l'intera gara perché l'arbitro lo espelle per scorrettezze a 15 dalla fine. Una squadra alla capolista che non aveva nulla in più del Matese come ha poi decretato anche il campo ma alla fine, si sa, vince chi fa un gol più dell'avversario. Infatti, grazie ad un gol di Riccardo della Quercia, gli abruzzesi portano a casa la vittoria e consolidano il grosso vantaggio in classifica a 9 punti dalla seconda. Mister Urbano lo abbiamo sentito a termine della gara, visibilmente deluso e amareggiato, del risultato finale. Mister, è una sconfitta che brucia questa qua? È una sconfitta immeritata, senza ombra di dubbio, però il verdetto del campo è questo. Come sempre ci prendiamo quello che ci dà il campo. Noi abbiamo fatto, secondo me, visto anche le premesse, una settimana un po' particolare dove tanti giocatori si sono allenati poco, con diversi problemi. Abbiamo avuto già nella fase di scaldamento di Nocerino che è dovuto rimanere fuori, la gamba che ha giocato con infiltrazione. Insomma, ci eravamo arrivati un po' acciaccati. Esposito? Esposito ha giocato, ha giocato 90 minuti. Poi è stato espulso, se non sbaglio. Abbiamo fatto, secondo me, per 72 minuti, fino a che non hanno fatto gol loro, una grandissima partita. Poi le squadre che vincono i campionati sono così, sono Sorgnone. Alla prima mezza occasione che hanno avuto hanno fatto gol. E questa è la differenza che fa una squadra che vince, lotta a vincere il campionato, è una buona squadra come siamo noi. Sicuramente il Matese non meritava di perdere questa partita. Senza opera di dubbio. Io penso che chi l'ha vista è sotto gli occhi di tutti. Però, ripeto, noi le nostre occasioni le abbiamo avute. Col primo tempo con Esposito, Sago il secondo tempo davanti al portiere. Ma soprattutto siamo stati sempre con il pallino del gioco in mano. Palla a terra, abbiamo fatto delle grandissime, gran belle giocate. Siamo stati sempre alti, abbiamo corso sempre in avanti, siamo andati a prenderli alti. E poi, ripeto, su una palla nostra persa nella loro metà campo, dove probabilmente avremmo dovuto scaricarla prima. Loro ci sono ripartiti e, come ho detto prima, da grande squadra, da grandi mestieranti quali sono, soprattutto in avanti, poi hanno fatto il gol. Dopo il gol è chiaro che noi siamo andati anche in infinità numerica perché abbiamo perso un attimo la testa. E a quel punto è chiaro che l'ultimo quarto d'ora abbiamo fatto fatica, abbiamo giocato più di inerzia che, insomma, in maniera ordinata come avevamo fatto per 70-75 minuti. Domenico prossimo a Tolentino una squadra che qua vi fece soffrire, forse l'unica che ha meritato di vincere qua, anche perché è l'unica sconfitta che avete avuto oltre a questo. Sì, ma noi eravamo un'altra squadra, eravamo una squadra morta quando abbiamo giocato il giorno d'andata col Tolentino. Una squadra morta soprattutto dal punto di vista mentale. Oggi la squadra è viva e sarà tutta un'altra partita. Lo ha dimostrato anche oggi, ripeto, nonostante le tantissime difficoltà, le tantissime problematiche che abbiamo avuto, e noi abbiamo fatto una grande partita dal mio punto di vista.